Bologna si sa che è ormai negli ultimi anni una sicurezza nel campionato italiano e non solo quindi posso dire di essere felice di come la squadra ha affrontato la partita, di come ha lottato nonostante l'assenza di Justin che comunque ovviamente si è fatta sentire però secondo me dobbiamo prendere gli spunti positivi perché ce ne sono stati tanti sia in attacco che in difesa e poterli trasferire nella partita successiva. Pesaro è una squadra molto solida, forte come ha dimostrato dall'inizio dell'anno con grandi vittorie anche con grandi squadre e anche il campo è un campo difficile quindi mi aspetto una partita sicuramente intensa e complicata dall'inizio però che potremmo portare a casa giocando alla nostra maniera quindi con ritmi di attacco molto elevati con grande difesa e intensità.